eccoci qua ragazzi passeggiata da ruta di camogli verso le batterie oggi niente di che e qua stanno facendo dei lavoretti sta mettendo a posto la strada qua sotto come potete vedere ci hanno costruito una bella passarella per girarci sopra intorno perché qua sotto stanno stanno un attimo facendo forse lavori di contenimento della mia agia del muro come potete vedere qua crollava un po tutto almeno dava l'idea che stava un po mezzo frenando quindi si sono detti diamoci una giustata vabbè niente questo è quanto raga ora ci facciamo ancora due passi fin là ma magari mettiamola un po il suligonia dai magari lì sotto ci stanno facendo una zona de or per i getti no una zona per allargarsi idea mia ragazzi fatelo ho fatto una zona per allargarsi a strapiombo sul mare vabbè dai ciao raga